Chiaramente non li troveremo tutti, dispositivi eccetera, però più ne si riesce a trovare meglio sicuramente è. Scendiamo qua sotto. La cripta ci attende. Ovviamente inizieremo con un bel pozzo gravitazionale. Ok, Remnant Vault. Siamo arrivati a questo posto e a riuscire. Per non aggressivi verso di noi. Sarebbe una bella figata in tutta onestà. Quelli lì abbiamo per aprire il tutto, ma fatemi prima capire. Torretta Relictum. Costrutto Relictum in grado di fare colpi al plasma a lungo raggio. E questa cosa mi pare brutta e cattiva. 100 dati ovviamente. Anche questo? Ma qui ci stanno tirando dati Relictum proprio dietro. Perché prima di attivare quello forse dovremmo distruggere la torretta secondo me. Perché secondo me la torretta è brutta e cattiva. Quindi vediamo se possiamo... Assolutamente non... Pervenuto il danno. Eh, però mi sembra che l'abbia sentito in realtà. Ah ah ah! Non vedevo nessuna barra vitale, ma il danno l'ha sentito. La signora. Allora, mi stia bene la morta, grazie. Che nel dubbio sa com'è. Io ho pochissime munizioni. Nel caso me le riprendo un po'. Mi ha preso due barre di quattro. Quindi ok, in base a quanti colpi gli richiedo. E vedi che quella torretta sarebbe stata un problema sicuramente. Ma noi l'abbiamo direttamente archiviata. Prima ancora che diventasse un problema. Siamo diversi connessioni di interfaccia che convergono qui. Io vi mostrerò i quelli che bisogna. Sì, un altro. Sì, un altro. Sì, un altro. Un trucco? Che trucco? Non sto cavendo molto bene, ma ok. Ah, il trucco è perché non si è aperta la porta. Quindi che abbiamo? Luci. Terminale Relictum, ok. E stiamo andando. Aspetta, dovremo aprire un tot di luci? Potremo semplicemente attivare tutto mano a mano. Senza una particolare logica. Alla cosiddetta Ndokoyokoyo. Posso hackerare la torretta adesso. Ok, quindi ci bastava solamente quello? Questi non ci servono? A quanto pare attivare... No, rimangono tutti attivati? Sai che mi sa di no? No? Quindi avevo già fatto bene prima? Quindi ora abbiamo due che arrivano da un lato. Non è vero mai. Allora, fatemi capire qui come funziona. Qui non abbiamo niente di interagibile, ok. Qui fa l'altro le luci riscendono, ma non i terminali. Ora, ha fatto una luce particolare, no? Che io dico... Secondo me vanno attivati in un certo ordine. Fammi capire, aspetta. Quindi dovrebbe essere basato su un numero di luci, un due, tre, quattro? Ah, ok. Mi è proprio sfuggita la cosa più banale del mondo. Ok, ok. Niente di grave, non passiamo di là perché ho sparato ancora proprio sbaglio. Ed ora cosa abbiamo qui? Perché immagino che questo sia il posto perfetto però per subire degli attacchi di qualche tipo. Questo console avrà attivato il campo di purificazione. Potete voler uscire l'area. Prima di questo luogo cercherà di ucciderci, vuoi dire? Esatto. Cerchiamo di dare un'occhietta prima... Intorno. Potrebbe essere... È molto rumoroso questo luogo, ok. Questo luogo quindi dopo cercherà di ucciderci come l'altra cripta, eh. Ok. Il posto mi sembra neutro in realtà. Non c'era neanche un tesoro o altro da prendere, credo. Credo. Poi magari mi sto perdendo l'ovvio. Poi dovremo correre di là e salire dalla dietro, tecnicamente, ok. Proviamo. Proviamo. Ok, siamo pronti a correre. Sì! Abbiamo preso una mod... Oddio. Andiamo a scappare. Questo non era come immaginavo, sarebbe dovuto andare il tutto. Cosa diavolo? Si è nascosto. Eh, adesso sì. Fammi togliere questo guardare. Fammi correre. Toglietemi dalle scatole. Voi non eravate più o meno tutti morti. Avrei dovuto lasciare il coso per... Oddio, non posso selezionare niente. Dovresti morire male. Ah, devo andare lassù, devo andare lassù. Muori tutti. Un compagno a terra? No, non mi pare adesso. Mi faccio interfacciare. Oh, 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 oh. Ok, sì, eh... Ok. Lo faremo, lo faremo, lo faremo, lo faremo. Ma io nel dubbio... Stavo per dire, io nel dubbio vi sparo, ma pare non sia una possibilità. No. Siete tutti tranquilli e sereni così. Va bene. Allora noi ce ne andiamo, signori. Grazie. Grazie per il pesce. Dell'energia, come ci flutto attorno. Ah, noi abbiamo fatto anche un paio di livelli dell'ultima volta che abbiamo fatto il training. Per cui facciamolo. Non da qua, ma da... Qua. Allora, noi abbiamo... Fatemi anzi, vedete prima qua. Il nostro obiettivo in quanto incursore è... 27 punti combattimento e tecnologia. Noi in combattimento siamo a 21 punti. Siamo ancora sotto. Pronto a combattere. È più o meno garantito che funzioni. Danni poteri da combattimento ci interessava poco. Danni mischia. Danni detonatori combattimento. precisione, armi in aria e durata sospensione. Quello è figo. Questo è molto figo. Senza danni schivando. Però anche precisione, armi in aria lo uso parecchio io. E anche la durata sospensione... Questo in combo con altre cose era una figata, ok? 20 danni da mischia in alto. Ma questo ci interessa di meno. Questo ci interessa di meno. 100% gradata sospensione, precisione, armi in aria. Quello è figo. E questo ci interessa poco. Questo comunque ci possiamo lavorare. Pronto a combattere. Era salute, scudi. Massimo limite asportabile. Peso armi. Questo è buono. Efficacia consumabile. Oppure limite di rigenerazione, ok? Peso d'armi ancora in più e il numero di armi tranquillizzanti. Ma quello ci interessa poco. Dimensione, caricatori, armi, munizioni di riserva. Uh, ok. Resistenza danni con salute bassa. Fico. Riduzione di dato di rigenerazione al riparo. Resistenza ai danni al riparo. Eh, eh, eh. Eh, questo è molto figo. Andiamo di pronto a combattere allora. Ora stiamo a 27 punti spesi. Comunque. Confermiamo qua. Ah, già avevo fatto altro. Ok, ma questo è soldato. Non mi interessa soldato. Altri 4 punti. Lui stiamo andando di supporto di squadra. E continuiamo su quella via per ora. Rigenerazione ai poteri di difesa. Stiamo a 27 punti spesi. Zack! Incursore. Grado di 3. Cosa ci consta questo a noi? Abbiamo, in quanto in corso di Diallo 3, abbiamo precisione armi aumentata. Stabilità armi aumentata. Velocità di ricarica tecnologica molto più alta. Bonus colpa testa 18% così da solo. Ok. Adesso dobbiamo avere 50 e 50. Inizia ad essere un pelo più complicato. Ma noi comunque ci andiamo, ci arriviamo, ci arriviamo, tranquilli che facciamo tutto. Inventare, abbiamo svariata roba nuova, ma onestamente adesso, se vedete tutte le mod e le cose trovate, ci interessa relativamente poco. Qui abbiamo di tutto. Getti speciali ne abbiamo tre. Antico casco da pilota in gara, chiave di decodifica ne abbiamo due. e richiesta corazza di lame. Già l'abbiamo fatta, fra l'altro. Uh, che appa. Quindi. Dobbiamo andare qua, e qui dietro abbiamo altri nemici simili, ma ce ne può fregare di meno. Andiamo là. E toglierei anche questo indicatore, waypoint. Ok, questo è stato molto comodo per trovare indietro, quantomeno. Salve gente, qui aumenta il tutto. Troppi dialoghi. Capisco. Ne sono consapevole. È sceso il saggio. Ah, infatti è sceso qua. Ogni cinquant'anni, erano? Ma sì, senza forze. Siete tutti qui per me, sono felice di rivederti, ma in realtà non me ne può fregare di meno di rivederti, in tutta onestà. Ah, su questo siamo d'accordo. Sì. 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 In che stato si trova, in modo scientifico. In che stato si trova a verlo? Uh, se è citato a un pianeta? Un pianeta morente completato. Un pianeta morente completato, vivibilità molto alta, ma non così alta, 78%, trova dei mondi da valutare. Liam Costa, ok, è la sua missione personale, diciamo. A quanto pare sì. Capisco. Gentilissima. Adesso la questione è, noi qui mi pare che più o meno abbiamo fatto tutto. Non c'è niente di nuovo. Si è aperta. C'è la console in questo gioco? Ok. Interessante. Cioè, possiamo fare qualche debug? Un pianeta che si è aperto a mell'unica personale. Non potrei essere dentro. Oh, che vuoi questa volta? Ah, niente, tranquillo. Non mi preoccuparti più. Molto bene. Guardate per le planti mentre sei qui. Le cose stesse. Allora, al momento la vibibilità è quel che è. Nel senso, non abbiamo modo di fare nessun'altra missione neanche volendo. Credo. Non abbiamo null'altro. Uh, qui abbiamo una missioncina. Andiamo. Andiamo or che possiamo. Questa probabilmente me la sono persa in giro. Salve. Ah, dovevo tornare da te io, in teoria. E come no? Già, all'esempio, parla da lontanissimo. La tua sister si è riuscita da Avaro. Questo datadrive dovrebbe avere le specifiche. Grazie. Con tutta questa informazione, potrei vedere la Mara di nuovo. Ma... Tanto il vostro primo saggio è già esceso. Ma dai, tua sorella, vai, zitto, su. Ovviamente. Sì, fantastico. Adesso. Penso che questo fosse davvero tutto. E non so perché quella non mi risultasse come una missione. Vivita 78%. Non so come si faccia a portarla al 100%. Ma è comunque una buona vivibilità, almeno per ora. Quindi torniamocene alla Tempest. Sentivo dei dialoghi... Da dei saggi che non so dove siano. Ma ok. Andiamo. E ci mancherebbe. Sì, abbiamo capito. Ok, una partita a poker. Leggi le mail di Gil. La scoperta di Aya era proprio quello che avevamo bisogno, Ryder. I scientifici Ingarin hanno stato così generosi nel partire la sua sede. È stato incredibile. Almeno una delle prime situazioni di contatto si è andata bene. Certo? Il cat. Habitat 7. Sono felice che gli Ingarin erano disposti di rispondere a lavorare con noi. Sono scoperto che non tutti sono abbastanza così amici. Alcuni danno la fiducia facilmente. Dari altri, hai bisogno di ottenere. Sono confidente che ci saranno. Ok, sono felice che tu sia positiva. Faremo come al solito un check un po' di quello che è successo sulla nave, come se la passo alla giuente. A quanto pare nulla. Spero davvero che tu non ti allontani troppo dalla tua postazione, visto che sei com'è. Sei il pilota. Allora abbiamo un po' di mail. Il poker ti aspetta. Ryder, la campana sta suonando. Raggiungimi al Vortex sul Nexus. Mi vedrai subito. Starò mescolando il mazzo del destino. A presto. Ok. Asari rifugiate. D'accordo. Ryder, su iOS è segnalata la presenza di asari rifugiate. Ce l'hanno fatta. Chissà, forse hanno notizie dell'arca. Possiamo parlare quando hai un minuto. Cora. Ok, ci potremo andare voluto volentieri. Conferma e archivia. Avar, l'invio di una squadra scientifica da Benedict Geffen, squadra pioniere. Il Nexus ha approvato la richiesta di l'invio di una squadra multidisciplinare su Avar, meglio noto come Habitat 3, per fornire assistenza alle attività angara in loco. Meme principali, Dottor Hawkins McClintr. Ok. Zarra, Farley Perra, Cody Oldren, Furiere. La squadra angara e del Nexus hanno espresso interesse in merito a una visita del pioniere su Avar per osservare questo sforzo interculturale. Benedict Geffen, per conto della direttrice Addison. Conferma e archivia. Ci torniamo più avanti, ragazzi. Penso che dovremo fare una ricapata un po' su tutti i pianeti. E a questo punto andiamo avanti, tanto già sommi. Metto in conto che dovremo tornarci. Quindi procediamo. Prendere contatti da Liam. Sappilo, dopo Aya la prima cosa che ho fatto è stata cercare di capire con chi parlare. Non devo dirtelo io che quelli che comandano non ce l'hanno scritto in fronte. Jarl mi ha dato delle diritte e ho rimediato qualche nome dalle colonie angara minori. Ci vorrà un po' prima che si fidino di noi, ma l'importante è metterci la faccia. Questo l'ho imparato nell'unità di crisi, specie nelle zone appena uscite dalla guerra. Verand. Se ricevi dei messaggi da lei, sai che ringraziare. Costa. Liam ha allegato un elenco di contenuti multimediali a tema primo contatto. I generi rientrano per lo più nella fantascienza con un vid Asari sul primo contatto con l'umanità dal titolo Come devono vederci. Ok, sarebbe interessante sapere come ci potrebbero a noi le Asari. È sempre stato un grande dilemma per me. Archivia. Dieta equilibrata da Lexi. Ok. Per il benessere psicofisico dell'equipaggio ho pensato di dare qualche consiglio per suggerire un'idea equilibrata. Considerate gli sforzi fisici che ti ritrovi a compiere quotidianamente. È importante che il tuo organismo ricevano le necessarie sostanze nutritive. Carboidrati. 5-11 porzioni al giorno. Frutta e verdura. 4-5 porzioni al giorno. Proteine. 3 porzioni al giorno. Grassi. 1 porzioni al giorno. Lexi. Terro presente. Comunicazione da Jal. Ok, allora. Pioniere umano rider dell'iniziativa. Ho avuto una conversazione privata con Efra, il leader della nostra resistenza. È rimasto positivamente colpito dal soccorso che abbiamo prestato ai nostri scienziati su Avarle. E ho sottolineato che il merito è stato principalmente tuo. Grazie Jal. Forse ti ha già riferito tutto questo conoscendolo, però dubito che l'abbia fatto. Per quanto mi riguarda la permanenza in questa squadra e lo sforzo che ho compiuto per affidarmi a te e gli altri mi hanno insegnato molto sul senso. Il significato della fiducia. Ho imparato che è un concetto legato alla sfera emotiva. Grazie. Piuttosto che qualcosa di scientifico. E pare che sia una verità universale. Universale, capisci? In futuro proverò a affidarmi ancora di più degli altri. Questo incarico potrebbe cambiarmi la vita. Buonanotte già. Sei davvero molto espansivo? E comunque non ti fidare troppo degli altri. Questo è il mio consiglio. Non è la nostra, ma è pur sempre casa. Da Liam, sempre. Sono fiero di Avar. Certo, viverci sarebbe stato divertente, a quel pianeta mancano solo gli pterodattili per trasformarsi in un parco giochi giurassico. Quello che abbiamo fatto per Angara di sicuro ci aiuterà parecchio a farceli amici. E abbiamo bisogno di loro, specie con il flaggello che limita i nostri movimenti. La sicurezza sta ripassando le informazioni fornite dai locali della fauna. Avamposto o meno, Avar ci può dare una mano. Costa. Liam ha allegato un elenco di contenuti multimediali a tema comunità. Liam è fissato con i contenuti multimediali. I generi includono sitcom vecchie di secoli e documentari sulla ricerca di partnership. C'è anche un musical su una pianta divoratrice di uomini. Ma quando troveremo il tempo di leggerci tutta questa roba e di vederci tutta questa roba? Ma ok. Ah ok. Un sacco di roba. Fantastico. Equipaggiamento lo controlliamo dopo, anche perché avremo un bel po' di ricerche scientifiche e altro da fare in realtà. Contatta la direttrice Addison da Avar. Sì, ho dei PVA ma non posso farci nulla con i PVA. Finché non ho una postazione da cui gestire i punti che ho fatto. Credo di potermi dare bellamente sul volto. Sì, grazie di averlo ripetuto per l'ennesima volta. Puuu, attenzione. Niente, a quanto pare. Lì, ma penso abbia cose da dirci invece, ma facciamolo con calma. Null'altro, ok. Come avete visto, con Suvi abbiamo avuto invece qualche feedback, quindi tanto vale provarlo con tutti. Punto. Secco così. E no, non mi interessi. Yeah. Ok, allora, continuiamo prima le camere e poi vediamo un po' di sviluppare robe. Qui abbiamo nient'altro di nuovo? Apparentemente no. E qui? Ovvio. Dovremmo parlare con lei, assolutamente. Ok. E speriamo che il pioniere Asari sia ancora viva. Se è una solana immiratrice, parrebbe. Beh, qualcuno è un fan. No, io... Io solo... Guarda, abbiamo bisogno di qualcuno con l'esperienza, questo è tutto. Mi sta bene, è un aiuto in più. Io prenderò qualcuno con l'esperienza così. Un'altra razza per trovare l'Arc. Eh, dovrò ricordarmelo. Porta Cora con te e parla con Edari. Ok, ok. Allora. Niente di nuovo? Oltre a questo? Nope. See you later, Cora. See you later. I'll be here. See you soon. E... Questo è ancora il bestie che abbiamo raccolto per studiarlo. Se ne ha aggiunto un secondo? Me ne ricordavo uno solo, onestamente. Ah. O mi si aggiungono bestie strane. Allora. Collegamento capsule. Allora, noi avevamo detto che... Intanto che abbiamo cose da prendere. Ottieni tutte le ricompense. Grazie. 100 dati, punte e basta. Cioè, io finché non torno a... Ah, Dio. Cioè, quindi io avrei potuto fare nel frattempo magari un milione di punti, ma col fatto che non ero mai passato a prenderli. Allora. Abbiamo detto due scientifiche, una commerciale e un militare. Giusto? Ne abbiamo quanti punti? Un solo punto capsule disponibile. Quindi andiamo di... Ti frutto credi di intervalli regolari. Pezzi migliori durante la compravendita di articoli. Che pensi dell'inventario aumentata? Andiamo di capienza inventario per ora. Ok. A posto così. A posto così. Poi, missioni della squadra. Vediamo cosa è successo ai nostri ragazzi. Successo. Tratti ottenuti specialista di cat. Ok. E... Fatta anche questa. Andiamo un attimo alle nostre squadre, quindi. Abbiamo 50 fondi missioni, ce ne servono ancora 30. Quella è audace e combattente. Questa è elite e specialista di cat. Ok. Ehm... Sì, 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 lo so, lo so. Ho visto. Carica e distruggi mi sembra che fosse difficilotta per tutti. Ehm... Via squadra d'assalto 38 e 44. Questa ci potremmo pensare. 88 e 89. Che dà questa? 5. Vediamo se troviamo qualcosa che dà 10 fondi missioni. Che sia fattibile. Tipo questa. Vediamo un po'. 7 e 6. Ok, direi di no. 86? No, va. Vai. Tu vai. Vai, andiamo... Te. L'ha mandata? Sì. Questa è 10 fondi missione. Mai ce la faremo. 88, vai. Mi piace, mi piace. Quindi qui ci farà un tot di tempo piuttosto lungo. Sono 4 ore e 30 e 1 ore e 3. Ma comunque 1 ore e 3. Se ne parlerà per me in un altro giorno. Poi abbiamo qui ricerca e sviluppo, giusto? Centro di ricerca. Ricerca. Allora, sulle armi ci possiamo ancora fare poco, credo. Perché mi costava di più. Perché il livello... Ah, no, era a livello 20 poi. Qui era a livello 20. Sì, con calma ci arriveremo. Per allora penso che qui risparmierò un po' di colpi. Qui su Ilius avevamo... Questo tipologia di armature, ma non so davvero se ci aiuterà o meno. 140 punti. Ma il livello 4 penso che poi ci sarà bloccato. Possiamo fare questo. Tanto poi non utilizzeremo, penso, questo qua, ragazzi. Perché questo fa danno armi generico. Io penso di voler l'armatura che invece aumenta i danni per i colpi critici. Però anche qui il resto sarà tutto il livello 20. Io penso che farò l'accumulatore seriale di punti per ora. Mentre per questa roba... Non riesco a farmi di piacere qui. Cosa c'è? Questo è inferno. Brevi raffiche marticelle di l'angere, non deve essere ricaricato. Questo è fino al surriscaldamento. E questo... Un raggio concentrato estremamente preciso che si interrompe solo in caso di surriscaldamento. Tutte le altre catese sono frutto della progettazione dell'iniziativa Andromeda. Questo è un raggio concentrato che è costante. Ma non so che danno possa creare. Creare. Crio guanto... Il fattato dell'utilizzatore creava il guanto intorno a un nucleo tecnologico che congele il bersaglio con un flusso di particelle subatomiche super raffreddate. L'effetto è sicuramente spettacolare ma il congelamento superficiale per quanto doloroso non è necessariamente fatale. Ma questo è tipo arma da mischia? Perché se è tipo arma da mischia potrebbe essere figo. Anzi, fammelo un po' vedere. Voglio provarlo. Sì, credo che sia arma da mischia. Voglio vedere qualcosa che rallenta e che mi dia in modo di scappare. Sembra figo. Eh, tra l'altro è ultra raro. Ok, e qui ci siamo fermati anche perché non abbiamo più i punti che ci sarebbero serviti. Ok. Ok. Ok, sviluppo. Allora, con calma. Braccio pioniere ci fa precisione armi che non ce ne può fregare di meno. Qui casco Ilius Champion non lo potremmo fare perché abbiamo trovato dei nuclei. Fatemi capire. Il fatto è che qui cosa abbiamo esattamente? Torso Ilius Champion. Pian pure te possiamo fare. Uh, possiamo fare entrambi forse. Proviamo. Cosa ci possiamo mettere? Bobbina Cinetica, Residenza ai Danni. All'Uccisione di un Nemico, Scudi Ripristinati. Ok. Più Salute Massima. Recuperare i Decenti di Tu quando gli Scudi si disattivano. Più 5 Residenza ai Danni non è male così generico. Però... Questo sicuramente è utile. Poi andiamo di Bobbina. Penso sia finito quello che possiamo. Mettere c'è anche lui. Vabbè, mettiamolo a questo punto. Non so se è un errore crearla adesso, ma se ne riparla a livello 20 poi. E lasciamolo così. E poi proviamo, abbiamo detto, il casco. Ilius Champion. Lo possiamo fare, ma non abbiamo niente da metterci. Va bene, per ora creiamolo, dai. Non mi interessa. Crea. Ok. Detto tutto questo, andando sulle armi, noi possiamo fare un fucile di precisione. Ci manca di nuovo il berillio. Niente da farsi, purtroppo. Niente da farsi. Postazione di compravendita. Possiamo materiale di recupero. Fare 10.000 crediti. Ok. Eh, no. Non lo voglio affatto. Conferma transazione. Poi. Cosa? Cosa mi potrebbero vendere qui? Berillio. Berillio mi serviva? E per ora basta. Aspetta un attimo. Vediamo cosa possiamo fare. Perché io vorrei provare a farne un altro. Allora, era su... Se ho qualcosa che valga la pena provare, altrimenti no. Ma no, se non lo posso. Comunque ci manca. Ci manca ancora 41 berillio in caso. Va bene. Iniziamo a tenerlo, mi sa, per quando arriveremo a livello 20. Non so se avremo modo di potenziarlo prima di quel momento. Ok. E so che vi sto tenendo con me a fare tutte queste operazioni, ma sono, a mio avviso, almeno parti integranti del tutto. Sì, parliamone. E v'è fra... In realtà non è disinteressato. Esatto! Perché mantengo la mia parola? Forse! Mi piace questo essere il principio di una forte relazione. Se hai promesse, e little by little, la bomba potrebbe crescere. Abbiamo riuscito a tracere la Mosha a una speciale facility di canto in Vold. Perché speciale? Queste facility sono proteggene da una tecnica dinamica di shield che non siamo capiti a creare. Siamo vicini, ma la possibilità di adattare e riuscire la velocità dei nostri processori currenti. Pathfinder, aggiungere il mio processore al suo programma, non è sicuro farà una differenza. Efra, posso aiutare. Riespettivamente, questa volta hai bisogno della mia aiuta. Riespettivamente, l'Angara non ha bisogno di nulla di te. Abbiamo scelto di noi. Ho avuto sulla logica. Con il potere di processore della mia AI posso garantire la scelta di shield. AI? Ovviamente, questo fa sensibile. Ah, si è già ricollegato. Ok. Beh, io voglio andare. È rischio di essere honest con la tua AI e l'honestà ti rende diversa da la KET. Spero di questo. Sei benvenuto sulla missione. Grazie. Una squadra ti metterà a nostra base a Vold. Ti prenderanno alla facility di shield. Restate forte e chiaro. Buongiorno. Restate forte e chiaro. Jal, sì, certo. Comunque, non è che io volessi essere onesto chissà quale motivo. Jal ama Darab. Ok. E che penso fosse l'unico modo per essere accettati nella missione. Questo è il motivo vero e proprio per cui sono stato onesto. Qui ci dovrebbe caricare con calma la mia camera. No, la mia camera è dalla parte opposta del mondo. Ok. Allora, non c'è BB. Ah, eccola là. Poteri biotici. Boom. Ok, allora, BB. Bella mia. Aya è una wonder rider e le angara sono molto interessanti. Vero. Ho spero che torniamo a tornare. Voglio rinforzare e esplorare e chi ne sa cosa altra. Tieni le mani a posto? No, no, torneremo. Siamo tornati. Necessiamo Moshe se siamo arrivati in la sua vault. Oh, sicuramente sto cercando per quanto riguarda per questo. Ok, continuiamo a buttare corteggiamento come se non ci fosse un domani. Mi piace quando flirti. Non voglio che stoppare. ancora. Certo che questa linea però è proprio ripetitiva, ok? Sì, a posto. A posto. Detto ciò, Jal era forse qui dietro, sentivo che parlavano. Ma mai nella vita. Mai nella vita. Dov'era Jal? Forse di sotto. Eh, qui non c'è. Quindi immagino che scendere... Vabbè, possiamo scendere anche di salto? Fantastico. Qui non c'è niente. Potrò avere delle merci di scambio. Cereali per la prima colazione ad alto contenuto di saccarosio. Ok. Mi sto perdendo cose. Allora. non c'è nessuno qua giù? Beh, qui adesso ci sarà Drac... Dov'era Jal? Forse parlavano con un comunicatore? Messo in via voce? Vabbè, erano giovani. dobbiamo rivederlo, ma... sai com'è? Oh beh, immagino che tu avrei altrettante se non più storie da dirle di rimando. Ho il terrore di quando dovremo tornare sul Nexus, ragazzi. Il terrore. Nient'altro, ok. È stato... È stato comunque un bello scambio il tuo... è quello di... Drac. Cuginotto ovviamente vuoto. Ok. Mad Bay vuoto. Come ti sbagli? La mia stanza... No, eh? Cioè, non capisco dove fosse... Jal. Qui dovremmo stare a posto. Ah, non sono passato per ricambiarmi l'inventario adesso, dopo lo vediamo. consegna speciale. Spazio profondo. Ah, è vero, c'era quella roba che abbiamo sbloccato, è un DLC. Abbiamo delle verniciature, ok. Opera di Sarissa Terris. Rider, d'accordo. So che hai da fare, ma i manuali e le opere di Sarissa meritano di essere letti. Se soltanto hai un minuto, in particolare una roccia di Maelstrom, il suo classico sulla strategia nelle crisi e delle situazioni di emergenza. I primi tre secoli, la nuova via della cacciatrice. Questi sono la tipa che dovremmo incontrare su Ios. Posso prestarti la copia che mi ha passato Nisira, 12 foglie, un insieme di meditazioni e note tattiche scritte insieme a Ertinaia che non so chi sia. Discorsi e silenzi, qui parla delle sue esperienze nella battaglia di Kerkis e di tutto ciò che ha condotto a quello scontro. Ci sono anche i video originali di Sarissa che protegge il quartiere di una città con i suoi poteri biotici. Sono straordinari. Estratti dal vuoto, contiene il suo discorso introduttivo alle nuove commando di un'analisi storica dei primi spettri asari. Questo è interessante. In realtà è interessante. Sarebbe figo poter leggere tutta questa roba. E disconnete, di grazia. Allora, io in teoria dovrei scendere secondo questo affare. Non è vero. Tecnicamente dovrei andare alla mappa galattica. Ecco cos'è. Il discorso è che Jarl dov'è. Liam Gill Lexi Jarl. Eccolo qua. Allora, al laboratorio tecnologico. Ok. Quindi, dobbiamo risalire. E credo che sia qui a destra. Tipo? Aya ha tantissima biodiversità e le luci. sull'uomo. Just like Sir Cash. Sir Cash. Ah, nostalgia. Allora. Jarl. Ecco, mettiamo lui come missione attiva. Questo forse ci aiuterà un pizzico, perché da solo io hai voglia di... quasi, è spostato qua. Oh, ok. Era, era in movimento. No, tu hai raggiunto l'Evra's trust. Non ho sopprovazione, questo è vero. Io ancora non credo che mi piace. Questo è solo il suo modo. Tu dovresti essere più preoccupato per gli Rokkar. sembra che tu avessi esperienza con loro. Io conosco il loro leader, Aksu. Ah, è il famoso. Sì, l'ho letto. E questo spiega per cose degli alieni, effettivamente, ma... che... è perché è il loro gli alieni. Sì, è... 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 è stato molto. Quando Aksu returned, è no più non è non lo ne 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 perché sono arrivati gli alieni dall'altra classe immagino direi di fermarli più che di farli ragionare farli ragionare non me ne può fregare di meno non mi interessa che ascolti e quindi uccideremo sono d'accordo c'è un recluso su Havarul che escapò con Axul dal Kett il suo nome è Thaldir lei potrebbe sapere come contattato io ti mando il punto nervo fantastico grazie oh vedi che abbiamo un motivo per tornare indietro ora però possiamo tranquillamente cambiare e andarcene da un'altra parte ma non su Havarul penso che abbiamo un altro pianeta da visitare qualcosa di ghiacciato forse grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti